Non so quanta parte di quelle sinetie, di quelle aderenze che sono manifestazione dell'infiammazione che c'è stata nelle giornate precedenti si riuscirà a risolvere, però onestamente se lei mi dice per quanto tempo bisognerà continuare prima che la cosa si risolva, io non sono in grado di rispondere. Non lo so assolutamente questo, non lo so. Berlusconi perseguitato anche in ospedale, nell'Italia di Grillo.